Sotto questa apparente calma l'antico cuore di Siena oggi batte tumultuosamente. Le 17 contrade fatte beffarvi ostili l'un l'altra filano in silenzio le armi. Tra poche ore tutti i posti a sedere e in piedi, i tetti, le terrazze, le torri e le finestre saranno stipati di senesi e di migliaia di forestieri. Ci siamo, entrano nel campo i cavalli dell'Aquila, dell'Istrice, del Bruco, dell'Oca, del Tricorno. Poi, alla mossa, la cannonata Izzante e via in sfrenato galoppo. Ha vinto il bianco destriero dell'Istrice, rifugio di bandiere, baci e abbracci di entusiasmo tra quelli della contrada. E guai oggi a chi osa toccarlo l'Istrice. Sono punture e sangue dal naso. Grazie. 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 Grazie.